Musica Vivo e lavoro da quasi sette anni a Palm City, una piccola cittadina a nord di Miami, distante a circa un'ora e trenta di auto. Oggi ho deciso di condividere con voi una storia bizzarra, capitatami una sera di pochi giorni fa, mentre ritornavo a casa in automobile. Stavo guidando lungo un'autostrada desolata, tornando da una serata con gli amici. La strada era quasi deserta, con il solo ronzio del motore della mia vecchia auto a farmi compagnia. Non avevo mai amato guidare di notte, l'oscurità mi metteva a disagio e la solitudine della strada accentuava la mia ansia. I fare illuminavano solo una piccola parte della strada davanti a me, rendendo il resto un abisso di tenebre. Dopo un'ora di viaggio, iniziai a sentirmi stanco. I miei occhi si appesantirono e la monotonia del paesaggio non aiutava. Fu allora che notai qualcosa di strano. Un'auto, una berlina nera, apparve dal nulla nel mio specchietto retrovisore. Non avevo idea di dove fosse venuta fuori in quella strada deserta. La berlina mantenne una distanza costante da me per un po', il che mi fece sentire leggermente a disagio. Poi, improvvisamente, accelerò, sorpassandomi ad una velocità folle. Mi sentì sollevato, pensando che fosse solo un guidatore impaziente, ma non fu così. Pochi minuti dopo, vidi la stessa auto ferma al lato della strada. Non appena mi avvicinai, ripartì, mantenendo la stessa distanza di prima. Questo gioco di gatto e topo continuò per diversi chilometri e ogni volta che l'auto si fermava, il mio cuore batteva all'impazzata. Qualcosa non andava. Perché mi stava seguendo? Cosa voleva da me? Decisi di non fermarmi, sperando di trovare qualche stazione di servizio o un posto con altre persone. Ma la strada sembrava infinita e l'auto continuava a seguirmi, come un predatore che brecca la sua preda. Dopo svariati minuti, in questo stato di tensione, la mia mente iniziò a giocare brutti scherzi. Un ronzio. Così lo definirei. E poi, un lieve bagliore nel cielo, quasi impercettibile. Ero troppo concentrato sulla mia paura per collegarlo a qualcosa di concreto, ma era lì. Lo vedevo chiaramente. Inizialmente pensai fosse la luce di un aereo o forse un satellite, ma guardando meglio, sembrava troppo vicino. Troppo intenzionale. Era come se mi stesse seguendo. La mia auto non era certo il massimo della sicurezza e il pensiero che potesse lasciarmi a piedi in qualsiasi momento aumentava il mio terrore. Finalmente vidi le luci di una stazione di servizio. Sembrava deserta, ma non importava. Avevo bisogno di una pausa, di umanità, di qualunque cosa che non fosse quella strada maledetta, quella berlina nera e quello strano bagliore nel cielo, seguito dal ronzio incessante. Mi fermai e con un sospiro di sollievo scesi dall'auto. Il silenzio era assordante. La stazione sembrava abbandonata, ma le luci erano accese. Mi avvicinai al minimarket sperando di trovare qualcuno. La porta civolò mentre la spingevo. C'è qualcuno? Chiamai, ma nessuna risposta. Camminando tra gli scaffali vidi che c'erano ancora prodotti, ma sembrava che non fossero stati toccati da tempo. Il frigorifero con le bibite era acceso, ma vuoto. Mentre esploravo sentii il rumore di un'auto. Corsi alla finestra e vidi la berlina nera che si fermava fuori. Il mio cuore iniziò a saltellare. Ero intrappolato in un impeto di paura. Corsi verso il retro del negozio cercando una via di fuga. Nel retro c'era una porta che portava ad un magazzino. Entrai chiudendola alle mie spalle e mi nascosi dietro alcune scatole. Sentivo i passi fuori. Qualcuno stava cercando di entrare. I minuti passarono come ore. Il mio respiro era l'unico suono in quel magazzino. Poi i passi si allontanarono. Mi avvicinai cauto alla porta ascoltando. Sembrava che fossero andati via. Uscì dal magazzino e guardai fuori. La berlina nera era sparita. Mi sentivo un po' più sicuro, ma sapevo che dovevo andarmene da lì il più velocemente possibile. Tornai alla mia auto e ripartì mantenendo un occhio costante nello specchietto retrovisore. Dopo un po' la tensione diminuì. Non vidi più la berlina nera e sia il bagliore nel cielo che il ronzio sparirono. Finalmente raggiunsi il mio appartamento in città. Ero esausto ma sollevato. Quando parcheggiai notai qualcosa di strano sul parabrezza posteriore. Era un biglietto. Con mani tremanti l'ho presi. Era un messaggio scritto a mano. Ti abbiamo seguito per proteggerti. Non eri solo sulla strada stasera. Il mio sangue si gelò. Non ero mai stato seguito da un'auto prima. Erano stati loro a proteggermi da qualcosa che non avevo nemmeno notato. Poi ho pensato al bagliore nel cielo, al ronzio e ai video diventati virali sui social media in tutto il mondo. Dove si supponeva di una vasta operazione della polizia atta a contenere un'emergenza singolare di cui oggi tutti o quasi siamo a conoscenza. nonostante ciò io mi chiedo cosa era successo quella notte. Cosa avevano visto che io non avevo visto. I giorni seguenti furono pieni di domande senza risposta. Vidi più volte berline nere ma nessuna come quella notte. Iniziai a notare piccoli dettagli. Uomini in abiti scuri che sembravano osservare lontani rumori che non potevo identificare. cominciai a chiedermi se ci fosse qualcosa di più grande di una semplice auto che mi seguiva. Forse qualcosa nei cieli. Qualcosa che non dovevo vedere e che quella berlina forse guidata da agenti speciali non so stava cercando di nascondere. Non ebbi mai conferme delle mie teorie ma da quella notte ogni volta che guardo il cielo stellato non posso fare a meno di chiedermi cosa si nasconda oltre le stelle e cosa accade di notte su quelle lunghe e desolate autostrade. Ero sulla strada di casa un po' assonnato e con le mani saldamente sul volante. mentre la radio gracchiava in sottofondo. Il concerto era stato elettrizzante ma ora l'euforia lasciava spazio alla stanchezza. Le strade erano quasi deserte bagnate da una pioggia fine che rifletteva i lampioni sporadici. A 23 anni mi sentivo spesso invincibile ma quella notte una strana ansia si annidava nel mio stomaco. Avevo scelto di viaggiare di notte per evitare il traffico un'abitudine che avevo preso per ottimizzare i miei orari tra studio e lavoro. Ero un ragazzo come tanti con sogni speranze e il costante desiderio di indipendenza. Ma quella strada così isolata e buia mi metteva a disagio. non temevo i fantasmi o le storie che spesso si raccontano sulle strade di campagna ma il reale pericolo di un incidente o di un incontro sfortunato con qualche animale selvatico. I fari fendevano l'oscurità e ogni tanto intravedevo un cartello o gli occhi di qualche animale che riflettevano la luce. Il suono del motore e delle gocce di pioggia era ipnotico ma ogni tanto venivo scosso da un rumore più forte o da un'improvvisa raffica di vento. Mentre procedevo vidi qualcosa di inaspettato un'auto parcheggiata al lato della strada i fari spenti. Rallentai curioso e un po' preoccupato era raro trovare qualcuno in quelle condizioni soprattutto a quell'ora. Nel passare notai una figura accanto al veicolo sembrava stesse cercando di fare l'autostop qualcosa mi suggeriva di non fermarmi ma la postura della persona sembrava disperata mi spinse a rallentare. Ti serve aiuto? chiesi abbassando il finestrino. La figura si avvicinò era un uomo sulla quarantina con un'espressione angosciata. si per favore la mia auto è morta e non c'è segnale qui potresti portarmi alla prossima stazione di servizio? La sua voce era calma ma potevo percepire un tremore di nervosismo qualcosa dentro di me mi urlava di andare via ma l'empatia prese il sopravvento dopo tutto era un ragazzo che credeva nel fare la cosa giusta va bene sali dissi sbloccando la porta l'uomo salì ringraziandomi più volte ripartimmo e mentre guidavo cercavo di fare conversazione per alleggerire l'atmosfera ma lui era laconico e i suoi occhi continuavano a scrutare l'oscurità fuori dal finestrino come se temesse qualcosa o qualcuno il viaggio proseguì per alcuni minuti in un silenzio teso finché non raggiungemmo una piccola stazione di servizio illuminata l'uomo mi ringraziò ancora e scese rapidamente scomparendo dentro il minimarket mentre ripartivo un senso di sollievo mi invase ma non durò a lungo circa un chilometro più avanti il motore iniziò a fare uno strano rumore poi si spense del tutto lasciandomi in balia del buio e del silenzio con il solo tamburellare della pioggia a farmi compagnia avevo preso l'autostoppista per aiutare ma ora ero io ad aver bisogno di aiuto isolato e vulnerabile in una notte che aveva preso una piega inaspettatamente minacciosa era una situazione spaventosa ero incredulo di ciò che mi era successo e sapevo che avrei dovuto affrontarla con tutte le mie forze e astuzia per tornare a casa sano e salvo mentre il respiro si faceva affannoso cercavo freneticamente il telefono per chiamare un soccorso ma con un colpo al cuore realizzai che il telefono non c'era più dovevo averlo lasciato sul sedile o forse l'uomo la mia mente cominciò a correre avevo lasciato un estraneo entrare nella mia auto avevo infranto la regola non scritta del non fidarsi degli sconosciuti soprattutto di notte cercando di mantenere la calma uscì dall'auto fuori era buio il freddo era pungente la pioggia era ora un diluvio e ogni goccia sembrava amplificare la mia paura decisi di camminare verso la stazione di servizio sperando di trovare qualcuno o almeno un posto dove rifugiarmi e chiedere aiuto il percorso sembrava interminabile ogni ombra ogni rumore del vento tra gli alberi ogni grido lontano di un animale notturno sembrava minaccioso poi improvvisamente un rumore di passi pesanti alle mie spalle mi girai di scatto ma non c'era niente forse me l'ero immaginato il cuore mi batteva così forte che potevo sentirlo nelle orecchie ripresi a camminare più velocemente quasi correndo finché non intravidi le luci della stazione di servizio arrivato là mi precipitai dentro ansimante e zuppo fradicio il commesso mi guardò sorpreso raccontai in fretta la mia storia la mia voce un misto di paura e sollievo mentre parlavo notai che il commesso impallidiva quell'uomo disse lentamente è stato visto qui diverse volte dice sempre di avere l'auto in panne ma non ci sono mai auto in panne nessuno sa dove venga o dove vada alcuni beh alcuni non sono tornati a raccontare un brivido mi corse lungo la schiena non era solo un autostop di notte ero incappato in qualcosa di molto più pericoloso il commesso chiamò la polizia mentre io cercavo di raccogliere i miei pensieri aspettando la polizia guardai fuori dalla finestra verso la strada buia l'acqua che continuava a cadere incessantemente quella notte aveva preso una piega che non avrei mai immaginato un incubo mentre l'adrenalina svaniva lasciandomi esausto e scosso sapevo che quella sarebbe stata una storia che non avrei mai dimenticato mentre la pioggia martellava incessante contro il vetro della stazione di servizio la polizia arrivò e iniziai a raccontare loro tutto ciò che era successo spiegai dell'uomo del suo aspetto del modo in cui mi aveva chiesto aiuto e del suo strano comportamento mentre parlavo uno degli agenti scambiò uno sguardo preoccupato con il suo collega una volta finito uno degli agenti prese la parola abbiamo avuto segnalazioni di un individuo simile negli ultimi mesi disse con tono serio sembra che stia cercando di isolare i viaggiatori non è solo una questione di furto o vandalismo pensiamo che abbia intenzioni molto più pericolose mi spiegarono che secondo le loro indagini l'uomo probabilmente fingeva di avere l'auto in panne per far fermare i passanti una volta dentro il veicolo delle sue vittime cercava di rubare oggetti di valore o ancor peggio di prendere il controllo dell'auto per condurre le sue vittime in luoghi isolati la sua tattica era quella di sembrare vulnerabile e bisognoso sfruttando l'empatia e la bontà delle persone per fare qualcosa di malvagio è un predatore continuò la gente che si nutre della fiducia e della vulnerabilità degli altri finge di essere in difficoltà per poi sfruttare la situazione al suo favore mettendo in serio pericolo chiunque si fermi per aiutarlo uno dei pensieri che più mi turba è cosa ne ha fatto del mio cellulare e poi possibile che sia una coincidenza il fatto che la mia auto si sia spenta poco dopo aver lasciato l'uomo nell'area di servizio credetemi questa storia mi ha turbato al punto che ogni tanto di notte sogno ancora oggi l'episodio il pensiero di quanto fossi stato vicino ad un pericolo così irreale e tangibile mi fece rabbrividire avevo pensato di fare una buona azione ma in realtà ero stato ad un passo dal diventare una vittima ero sopravvissuto sì ma la lezione appresa quella notte buia e tempestosa mi avrebbe accompagnato per il resto della mia vita mi chiamo Antonio ho 25 anni e vivo a Matera con la mia famiglia quest'estate sono stato in vacanza in Calabria con la mia famiglia cosa che non facevo da svariati anni ormai ma quest'anno approfittando del fatto che la mia ragazza è andata in vacanza con i suoi genitori e sotto insistenza anche della mia sorellina di 17 anni ho deciso di partire con loro siamo partiti con la nostra auto ed abbiamo alloggiato in un appartamento presso un villaggio vacanze appena arrivati a destinazione i miei genitori che avevano guidato a turno erano un po' stanchi e decisero di restare a casa la prima sera mentre io e mia sorella abbiamo deciso di uscire a fare un giro in paese ho preso la macchina di mio padre e sono uscito con mia sorella siamo stati a fare un giro in centro abbiamo cenato in una pizzeria e dopo cena siamo andati in un pub a bere qualcosa essendosi fatte le due di notte era arrivato il momento di rientrare nel villaggio premetto che il paese era distante circa una ventina di minuti dal villaggio in cui eravamo alloggiati e la strada era poco illuminata ed anche poco trafficata dopo circa due chilometri ebbi l'impressione che un'auto con i fari alti ci stava inseguendo stavo camminando a circa 80 chilometri orari e decisi di rallentare leggermente per vedere se l'auto dietro di noi ci superasse o meno mi accorsi che anche il tizio dietro di noi rallentò quindi mi convinsi sempre di più che quell'uomo ci stava seguendo mia sorella notando che guardavo spesso negli specchietti retrovisori mi chiese cosa avessi visto e io gli feci notare l'auto alle nostre spalle proseguendo per la strada mi accorsi che davanti a noi a circa 300 metri c'era una piccola piazzola in cui poter accostare quindi dissi a voce alta che mi sarei accostato e se il tizio si fosse fermato sarebbe stata la conferma che ci stava seguendo ed in quel caso sarei sceso dall'auto e avrei affrontato il tizio io sono uno che non si intimorisce e prendo sempre di petto qualsiasi situazione mia sorella che era parecchio spaventata da quella situazione quando capì le mie intenzioni mi pregò di non fermarmi facendomi notare che quell'uomo avrebbe potuto essere pericoloso o armato quindi razionalmente lasciai perdere il mio istinto e pensai solo a proteggere la mia sorellina tirai dritto superando la piazzola ma non avevo intenzione di rientrare nel villaggio col dubbio di essere seguiti o meno ebbi per così dire un colpo di fortuna o di ingegno dipende dai punti di vista quando in prossimità di un incrocio con semaforo vidi il semaforo verde diventare giallo e lì feci una cosa che so bene che non va fatta ma in quella situazione mi sembrò la cosa più giusta da fare invece di rallentare accelerai di colpo e non so nemmeno se passai con il giallo o con il rosso fatto sta che vidi dallo specchietto retrovisore la macchina alle mie spalle fermarsi al semaforo in quanto era scattato sicuramente il rosso ho guidato a velocità un po' sostenuta fino al villaggio per evitare di essere raggiunto da quell'auto ogni tanto guardavo dagli specchietti per vedere se fossimo seguiti oppure no ma non vedi niente nessuno rientrai nel villaggio raccontammo tutto ai nostri genitori che ci stavano aspettando svegli e nostro padre che è un maresciallo in pensione ci disse che avremmo dovuto segnalare il fatto alle autorità sapevo bene che la nostra testimonianza non poteva essere rilevante più di tanto in quanto non avevamo visto in faccia all'uomo né avevamo preso il numero di targa inoltre non eravamo neanche certi del fatto che quell'auto ci stesse realmente seguendo in ogni caso all'indomani andammo in una caserma dei carabinieri lì in paese e raccontammo il fatto che poteva essere rilevante nel caso in cui qualcun altro avesse segnalato un qualcosa di simile anche se l'unica cosa che siamo stati in grado di descrivere io e mia sorella è stato il modello dell'auto questa non è un'esperienza paranormale ma comunque in quei momenti in cui io e mia sorella ci siamo ritrovati in quella situazione è stata dura e ho ritenuto giusto condividerla con voi avesse segnali